Giovedì 21 maggio, un buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del Tg4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. È arrivato il caldo dopo un mese, quello di aprile inasprito dalle piogge, è arrivata l'estate anticipata. Vediamo il nostro servizio d'apertura. Allarme caldo in Piemonte dove ieri si sono superati i 31 gradi. L'alta pressione di origine algerina che ha raggiunto l'Italia ha portato temperature estive anche a Torino e nelle altre province piemontesi. La massima più elevata è stata registrata dall'ARPA in provincia di Verbagna, 31,3 gradi. Termometro a 31 gradi anche ad Alessandria, mentre sotto la mole ha raggiunto i 30,1 gradi e per i prossimi giorni sono previste nuove ondate di calore. La direzione della protezione civile ha dichiarato a Torino lo stato d'allarme. Anche per oggi come per ieri l'indice di stress da calore è compreso tra 9,7 e 9,9, un livello considerato di attenzione degli esperti, mentre venerdì arriverà addirittura a livello 10. Il centro operativo comunale è stato attivato per prepararsi all'adozione di misure, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, per contrastare eventuali emergenze, invitando anche le circoscrizioni a mettere a disposizione, in caso di necessità, centri di incontro e locali climatizzati. Ora la cronaca del territorio torinese. Un rustico è stato distrutto da un incendio e 5 persone sono rimaste intossicate. E' accaduto ieri a Borgoni, in bassa Val di Susa. Il rogo è scoppiato al civico 6 di Borgata, a Molere, dove Marco Falco, vent'anni, era intento a riparare biciclette nel retro della casa dei genitori. E' probabile che a provocare le fiamme sia stato un prodotto infiammabile utilizzato per la pulizia degli ingranaggi. Il ragazzo è riuscito a mettere in salvo la sorella, che era su una sedia a rotelle, ossionandosi lievemente ad un braccio. Sul posto sono intervenute ben nove squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in salvo i due giovani e altre tre persone rimaste intossicate dal fumo, tra cui anche un'anziana di 96 anni. Ancora alla cronaca, rimaniamo nella provincia torinese. E' stata dimessa nel pomeriggio di ieri, Shatuan Nuval, la ragazza di origine marocchina è spinta dalla finestra di casa al termine di un litigio con il cugnato. I medici dell'ospedale di Ivrea, in provincia di Torino, dove era stata ricoverata, l'hanno giudicata fuori pericolo. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, in un appartamento al primo piano di una palazzina in località Baiodora, a Borgo Franco di Ivrea. Lì la giovane ventotenne è stata aggredita dal cugnato 39enne operaio, anche egli marocchino, da ieri sera in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La vicenda è in corso di indagine da parte della polizia. E ora cambiamo argomento, parliamo di economia. Il nostro paese, in Europa, secondo una recente ricerca, ha gli stipendi più bassi. Vediamo i dettagli nel servizio. Gli italiani sempre più poveri, ma non solo per colpa della crisi. Secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse, infatti, ogni cittadino italiano incassa ogni anno uno stipendio che tra i più bassi d'Europa. Con un salario netto di 21.374 dollari, il nostro paese si colloca così al ventitresimo posto della classifica dei trenti paesi appartenenti all'Ocse. Un divario del 17%. Busse paga più consistenti non solo in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Francia, ma anche in Grecia e Spagna. Persino in Islanda, che ha dichiarato la bancarotta, si guadagna di più. Principale responsabile di questo divario è sempre, secondo il rapporto dell'Ocse, il cuneo fiscale. Ma risentire di questo divario sono soprattutto loro, i cittadini. L'Italia sarebbe il paese che in Europa che guadagna di meno. Tu lo senti questa diminuzione del potere d'acquisto di loro stipendio? Sì, molto, perché comunque rispetto al costo della vita, una volta prima dell'euro, con 50.000 lire facevo la spesa, e adesso con 50 euro non compri nulla. Quindi senti anche un aumento dei prezzi? Sì, non c'è più proporzione. C'è stato un aumento inversamente proporzionale. Sono aumentati tanti i prezzi, però i stipendi sono rimasti uguali. Me ne accorgo moltissimo in questi ultimi anni. Con lo stesso stipendio ho sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Questa è veramente una cosa di cui mi rendo conto giorno per giorno. E credo che abbia proprio meno valore il nostro denaro. Sì, anzi, io non ne ho proprio lavoro. Quindi, sembra che mi sento ancora di più. Credo che ci sia, sicuramente, però la farei risalire dall'avvento, dall'introduzione dell'euro. Ma c'è bisogno di chiederlo? Allora, bisogna dire al signor Berlusconi, sempre se non viene tagliato, che bisogna aumentare gli stipendi al popolo, visto che è il popolo che mantiene tutta la comunità, tutta l'Italia e tutto il resto. Lavoro non ce n'è. Dicono che il lavoro è aumentato. E dov'è il lavoro? Continuano a licenziare. Poi si dice che lo stipendio medio è di 1000 euro. Ma dov'è? Ora la cronaca giudiziaria. Insieme alla Regione Piemonte e anche al Comune di Torino, sarà parte civile nel massi processo ai pusher arrestati lo scorso giugno nella zona del cosiddetto Tossi Park. Il GIP Bevilacqua ha invece accolto la richiesta delle difese degli imputati. 43 stranieri accusati di spaccio rinviati a giudizio lo scorso 9 gennaio e ha escluso dal processo i comitati spontanei dei cittadini. Intanto il Comune ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale in quanto proprietaria del parco. Ancora alla cronaca ci spostiamo in Liguria. I genitori di Eleonora, sedicenne, Massimo Albertelli, 36enne, scomparsi dal Tare in provincia di Savona dal sabato scorso, lanciano loro un appello perché tornino a casa. Abbiamo capito che vi volete veramente bene e vi aiuteremo nella vostra vita insieme. Vi preghiamo di tornare a casa. I due si sono allontanati insieme sabato mattina e di loro non si è più avuto notizia. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano denunciato Massimo Albertelli per sottrazione di minore consenziente. Il Piemonte è la quinta regione italiana mentre Torino è al quarto posto in Italia per numero di imprese femminili registrate nel 2008 rispettivamente con 111.000 iscrizioni a livello regionale e 55.000 nel capoluogo. Sono alcuni dati emersi dal convegno La Forza Propulsiva dell'imprenditoria femminile organizzato a Torino. Nella classifica nazionale per numero di imprese femminili il Piemonte è preceduto da Lombardia, Campania, Sicilia e Lazio. Il 68% delle aziende femminili piemontesi è imprese individuali. Due su tre si concentrano nel settore terziario, in particolare nel commercio. L'età media delle imprenditrici, di cui il 60% ha figli minori a carico, è di 48 anni. Il 70% delle aziende in rosa non supera i 200.000 euro di fatturato all'anno. A Torino le imprese femminili registrate sono invece 55.000, pari al 49% del totale regionale e al 3,9% di quello nazionale. Il capoluogo piemontese si conferma al quarto posto nel Paese per numero di imprese gestite da donne dopo Roma, Milano e Napoli. Nel 2008 il numero di imprese femminili torinesi è cresciuto dello 0,8% rispetto all'anno precedente. Sono oltre 8.000 i cittadini piemontesi che hanno sottoscritto la proposta di legge a iniziativa popolare contro il nucleare. Raccolte da un comitato di ambientalisti, presieduto da Fernando Giarruso, primo firmatario, la proposta di legge ribadisce la contrarietà ad un eventuale futuro ritorno del nucleare in Piemonte. La proposta di legge consiste nell'integrazione della legge regionale 23 del 2002 relativa alle disposizioni in campo energetico e alle procedure di formazione del piano regionale energetico ambientale. E ora parliamo di scioperi, siamo nella città di Torino. È stato rinviato lo sciopero di 24 ore di bus e tram, indetto per venerdì a Torino dai sindacati nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Resta invece confermato quello della metropolitana che è stato indetto per l'avvertenza degli addetti al Movimento. Sarà garantito il servizio dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il gruppo torinese Trasporti GTT ricorda però che le trattative proseguono, potrebbero 15, quindi esserci sviluppi nelle prossime ore che verranno immediatamente comunicate agli organi di informazione. E cambiamo argomento, il digitale è sceso in campo, ma sembra che il consigliere regionale del PDL, Pietro Francesco Tozzelli, abbia qualche dubbio sulla ricezione, particolarmente sulle aree montane. Sentiamo l'intervista. Parte l'era del digitale terrestre, che cosa dire in merito alle aree montane, in particolare alpine, svantaggiate, che già non vedevano e ancora non vedranno? Bisogna accendere i riflettori sul territorio piemontese ed in particolare sulle aree montane, ritenute da sempre aree per molte ragioni, soprattutto socio-economiche, svantaggiate. Ora, vi sono già aree che oggi non hanno l'opportunità, rispetto alle famiglie che vi abitano, di vedere la televisione, di vedere i programmi che invece in pianura ed in collina si vedono. Figuriamoci con il passaggio al digitale terrestre, la sofferenza sarà maggiore, perché coloro i quali in montagna vedono la tv, probabilmente, passando al digitale terrestre, neanche quel poco che vedevano prima riusciranno a vederlo. E quindi le istituzioni e la regione in primis, che è lente con le province, maggiormente vicino al territorio, ha la necessità di vigilare, di aiutare le famiglie e gli anziani in difficoltà dal punto di vista pratico nel montaggio e nel funzionamento del decoder che permette in pianura e in collina di vedere digitale terrestre, ma soprattutto preoccuparci delle zone montane per fare in modo che quelle aree, ritenute da tutte le istituzioni, destra e sinistra, importanti, non vengono ancora penalizzate da una tv che proprio non si potrà più vedere.